Roma e Firenze, protagoniste della politica italiana, il ballo di Diano, presenti a Orgoglio italiano e alla Leopolda. Padula, il festival dell'essere arriva incertosa, l'ideatore Vittorio Sgarbi visita il centro storico. Contrabbando di sigarette e reddito di cittadinanza, 12 arresti della guardia di finanza nell'agronocerino sarnese. Padula, giornata nazionale per la prevenzione sismica, l'ordine degli ingegneri di Salerno fa tappa nel ballo di Diano con Diamoci una scossa. Teggiano a Monsignor Giuseppe Liberto, il quarto premio San Giovanni Paolo II. Buongiorno e bentrovati, apriamo con la politica due giorni intensi a livello nazionale con due appuntamenti di spessore a cui ha partecipato anche il ballo di Diano. Sabato l'attesa manifestazione promossa dalla Lega, Orgoglio italiano, che ha ufficializzato la condivisione e la compattezza del centrodestra in una piazza San Giovanni gremita a Roma. A Firenze invece la decima edizione della Leopolda, che quest'anno ha sancito il distacco dal PD e la nascita di Italia Viva. Un nuovo partito che con la presenza a Firenze vede tra i suoi militanti anche l'ex coordinatore del PD del ballo di Diano, Domenico Cartolano. Fine settimana di impegni politici anche per simpatizzanti e militanti delle diverse fazioni partitiche valdianesi. Le due manifestazioni, quella Roma di sabato su Orgoglio italiano promossa dalla Lega e quella Firenze della decima edizione della Leopolda promossa da Renzi per rappresentare il nuovo partito di Italia Viva, hanno canalizzato l'attenzione dei media nazionali. In questo contesto anche il Vallo di Diano era presente. Sabato mattina valdianesi e salernitani in generale in viaggio verso Roma per raggiungere la manifestazione Orgoglio italiano, una patria da amare e da difendere, dove ha partecipato un centrodestro unito e compatto invadendo piazza San Giovanni a Roma con bandiere di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia unite al tricolore. Una manifestazione su cui si è dibattuto per numeri di presenze in una piazza di circa 42.700 metri quadri, che secondo stime tecniche realizzate nei giorni precedenti alla manifestazione può contenere fino a 250.000 persone nella parte centrale ed estendendosi per l'intero perimetro anche un numero di 700.000 persone. Dalle immagini realizzate con droni si è vista una piazza gremita in ogni punto, superando le stime provenienti dagli organizzatori che ipotizzavano una presenza di circa 50.000 persone. Numeri che sono stati ampiamente e decisamente superati con presenze che, secondo quanto emerge nella discussione post-manifestazione, avrebbe quadruplicato le stime. Tra la folla anche un gran numero di valdianesi e salernitani che sabato scorso hanno raggiunto Roma con bus organizzati o con mezzi propri per partecipare all'evento. A partire dal Vallo di Diano, in particolare simpatizzanti e militanti della Lega. Una delegazione del Vallo di Diano e del Salernitano tra sabato e domenica ha raggiunto anche Firenze per partecipare alla manifestazione indetta dal leader nel neonato partito Italia Viva alla Leopolda, evento che fino allo scorso anno raccoglieva tutti i referenti del Partito Democratico e che in questo fine settimana è invece diventata manifestazione per ufficializzare il passaggio al nuovo soggetto politico il cui simbolo è stato presentato durante la manifestazione. Nuove appartenenze che hanno interessato anche il Vallo di Diano con l'ex coordinatore territoriale del PD Domenico Cartolano che con la sua presenza presso l'ex stazione ferroviaria di Firenze ha ufficializzato quanto ipotizzato in una recente intervista a margine dell'ascissione in cui non aveva escluso l'eventualità di lasciare il partito a cui aveva per anni manifestato profondo attaccamento e spirito di sacrificio. Cartolano quindi segue l'amico d'infanzia Tommaso Pellegrino presente nel fine settimana alla Leopolda mettendosi al servizio del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva. Per il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi due giorni trascorsi a Padula dove è arrivato per la terza tappa del Festival dell'Essere ideato dallo stesso Sgarbi suddiviso in quattro tappe con l'evento conclusivo a Salerno. Vittorio Sgarbi è a Padula per trascorrere il fine settimana nell'ambito di una manifestazione svoltasi presso la Certosa di San Lorenzo. Il noto critico d'arte italiano non si è limitato alla sua presenza sul palcoscenico del Festival dell'Essere, ciclo di incontri voluto e ideato dallo stesso Vittorio Sgarbi toccando i siti di maggior interesse della provincia di Salerno ma ha anche voluto visitare il centro storico padulese. Una rassegna in cui si sono ritrovati filosofi, scrittori, musicisti, attori di cinema e teatro chiamati nei luoghi della Magna Grecia per confrontarsi ed elaborare pensieri su temi religiosi. Quattro le tappe del Festival dell'Essere con il noto critico d'arte che è stato già protagonista di luoghi come Velia e Pestum nei primi due appuntamenti. Il terzo incontro ha visto come location la Certosa di San Lorenzo, luogo storico di elevata sacralità, quindi perfetto per interrogarsi su temi legati alla presenza di Dio, come ha avuto modo di sottolineare lo stesso Vittorio Sgarbi. Un'idea nata in Cilento, finalmente partita a un po' di ritardo, con il disagio della stagione perché immaginavo un grande pubblico fatto da quelli che vengono in vacanza in Cilento, visto che tocca luoghi come Pestum, come Lea. E l'abbiamo articolato in cinque sessioni, di cui la terza è quella a Padula, dove si discute, trattando su un luogo sacro, il tema di Dio. Il problema dell'essere è quello che vale per ognuno di noi che vive, che ha un pensiero, ma vale anche perché Dio c'è o non c'è. e quindi la sua presenza è tanto più forte quanto più noi siamo incerti che Lui esista. E quindi molti atei cristiani, ebrei, oggi sono qui a testimoniare la loro idea di Dio, che è il tema fondamentale dell'essere. Quindi i festival in Italia sono partiti qualche decennio fa con il primo importante di Mantova sulla letteratura, poi scienza, filosofia. Io ho pensato di arrivare all'essenza, cioè di fare il festival dei festival, perché il festival dell'essere ti consente di invitare chiunque abbia qualcosa da raccontare del suo essere, essere cuoco, essere regista, essere attore, essere cantante, essere prete, essere ateo. Quindi è l'occasione perché si confrontino all'esperienza degli uomini e si raccontino quello che raccontino a noi e a se stessi e a quelli che li ascoltano, quello che sono stati, quello che sono diventati. Vittorio Sgalbi ha quindi voluto inserire anche la Certosa di San Lorenzo tra i siti di elevato interesse culturale e religioso, una scelta di grande importanza per lo stesso monumento certosino che conferme il suo valore nel panorama storico-culturale italiano, un evento che è stato utilissimo per dare lusso alla Certosa come sottolineato dalla direttrice Tommasina Budetta. Questo è il nostro obiettivo, valorizzare la Certosa, farla conoscere sempre di più, perché è un monumento straordinario. Noi siamo felici come polo museale della Campania, che finalmente apriamo a questi incontri di grande spessore culturale su una tematica che è adatta a questo luogo, la tematica appunto dell'essere, quindi della vita certosina come vita di silenzio e riflessione per accedere alla città di Dio questa. E ora alla cronaca, oltre 50 militari della Guardia di Finanza di Salerno questa mattina hanno eseguito 12 arresti nei confronti di altrettanti soggetti indagati in concorso per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nei confronti di 5 soggetti è stata disposta la sospensione del reddito di cittadinanza sinora percepito. I dettagli dell'operazione sono stati forniti questa mattina nel corso di una conferenza stampa negli uffici della Procura della Repubblica di Salerno. Questa è una diretta conseguenza del fatto che le persone arrestate ufficialmente non svolgono alcuna attività che consente di guadagnare dei redditi. Sulla base quindi delle evidenze ufficiali hanno potuto presentare la documentazione e chiedere di accedere a questo beneficio. Fortunatamente però la legge che disciplina il reddito di cittadinanza appronta anche i rimedi necessari per risolvere queste anomalie. Perché la legge di conversione del provvedimento istitutivo contempla l'obbligo di sospendere l'erogazione del contributo quando il beneficiario viene sottoposto a una misura cautelare. È quello che avverrà adesso perché è disposto direttamente dal giudice delle indagini preliminari. Anche l'ammontare dei redditi illeciti è un dato significativo che va posto in evidenza. Perché nel giro di tre mesi questa organizzazione è stata in grado di commercializzare oltre 3.000 kg di tabacchi lavorati e dalle conversazioni si è ricostruito anche il guadagno netto per la commercializzazione di queste sigarette che oscilla grossomodo intorno ai 3,50 euro per pacchetto. Quindi tirando le somme arriviamo a circa 600.000 euro di guadagno nell'arco di tre mesi da parte di questi soldi. Il contrabbando rimane sempre un fenomeno attuale e insidioso sotto diversi punti di vista. Oltre all'esigenza di tutelare l'erario e quindi contrastare quella che a tutti gli effetti è una forma di evasione fiscale c'è anche la necessità di salvaguardare l'economia legale. Quindi pensiamo in prima battuta ai tabaccai, quindi a coloro che vendono ufficialmente i prodotti del monopolio e che chiaramente subiscono una concorrenza in debita perché rispetto a un prezzo al tabaccaio che oscilla tra i 4,80 euro e i 5,50 euro in questo caso le sigarette venivano vendute a un prezzo variabile tra i 3,50 euro. Per presunti atti di bullismo sono finiti sotto inchiesta due studenti, uno di Sanza e uno di Vibbonati avrebbero deriso e molestato un compagno dell'istituto alberghiero Carlo Pisacane di Sapri. Domani il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lago Negro deciderà se mandarli a processo o archiviare il caso. La vittima è un sedicenne affetto da ritardo. Nell'apprendimento i fatti risalgono al 2017. A fargli venire alla luce una studentessa dello stesso istituto alla quale arrivò un messaggio whatsapp con un video che mostrava il minorenne bullizzato dai due, oggi rispettivamente di 18 e 17 anni. La studentessa non esitò a mostrarlo ai genitori del ragazzino che immediatamente presentarono denuncia ai carabinieri. L'inchiesta ora è terminata, domani la parola passa al GUP. Andiamo avanti, sempre con la cronaca. L'ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia a danno di una giovane donna dopo i recenti simili avvenimenti di polla e buon abitacolo, questa volta i fatti si sono consumati a Montesano sulla Marcellana. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, con queste accuse è stato arrestato a Montesano sulla Marcellana dagli uomini del capitano Davide Acquaviva, un 31enne rumeno che ha picchiato e tentato di accoltellare la compagna davanti al figlio piccolo. La notte scorsa i carabinieri della stazione locale sono stati allertati da una chiamata al 112, una 28enne, anche lei di nazionalità rumena, chiedeva l'intervento dei militari a seguito di un litigio con il convivente. Immediatamente arrivati a casa dei due, i carabinieri hanno trovato lui che in stato di ubriachezza aveva percosso la donna, provocando le ecchimosi e contusioni in varie parti del corpo. Ricostruendo poi i fatti, hanno scoperto che nel corso della serata vi era stata una colluttazione con l'utilizzo di un coltello, il tutto si era consumato alla presenza del figlio minore. Dopo i recentissimi episodi di polla e buon abitacolo, l'ennesima vicenda di maltrattamenti all'interno delle mura domestiche. E anche in questo caso, l'episodio della notte scorsa è solo l'ultimo di una serie. La 28enne subiva violenze e minacce fin dal 2016, anno in cui è iniziata la convivenza dei due. È quanto ricostruito dai militari. Per il 31enne, intanto, è stata applicata la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari e quanto previsto dal decreto sul femminicidio. La prevenzione sismica per il Vallo di Diano è un tema su cui si sta focalizzando sempre più l'attenzione, visti anche i diversi eventi calamitosi che si sono verificati in tutta Italia con scosse che in alcune occasioni si sono registrate anche in questa zona. La distruzione di edifici e abitazioni a seguito dei terremoti però possono essere evitati o comunque si possono notevolmente limitare i danni in caso di evento sismico a patto che ci si prepari con adeguate opere di messa in sicurezza degli edifici. Ed è proprio su questo punto che l'ordine degli ingegneri di Salerno con il coordinamento del referente dell'ingegnere Raffaele Tarateta nella giornata di ieri ha promosso un punto informativo per informare le comunità sull'importanza della prevenzione sui numerosi incentivi a favore della messa in sicurezza degli edifici e per parlare del programma diamoci una scossa allo stand sul tema della prevenzione sismica. Ieri a Padula era presente anche il presidente della comunità montana Ballo di Diano, Raffaele Accetta. Ascoltiamo le interviste. Il terremoto sono delle scosse telluriche che portano dei danni in quanto i luoghi in cui viviamo hanno una vulnerabilità o almeno potrebbero averla e questo ci provoca danno a cose e anche a persone. Se noi la scossa ce la diamo prima che arriva quella del terremoto riusciamo a fare un'attività che è quella della logica di tutte le cose, cioè di prevenzione, prevenendo questi danni che si possono modificare. Come la facciamo la prevenzione? Il tema centrale che stiamo portando avanti in questi giorni è quello della conoscenza, quindi la conoscenza porta a capire che cosa, quanto siano vulnerabili i nostri edifici, quindi qual è il rischio dei nostri edifici. Misurare il rischio significa anche capire quali pericoli corriamo. Una volta che abbiamo capito questo possiamo poi correre al riparo con le azioni necessarie che possono essere nulla se stiamo a posto. Può essere una manutenzione programmata, quello va fatto sempre o in qualche caso anche un intervento che si comincia a programmare, a pianificare di ristrutturazione, di miglioramento sismico. Questo è utile quando già siamo in un edificio, quindi per gli edifici in cui viviamo, ma anche quando pensiamo di fare una compravendita e ci accertiamo prima di quali sono le condizioni, qual è lo stato di salute dell'edificio a cui siamo interessati. Quando si parla di prevenzione è un dovere da parte nostra dare un contributo perché se si ha la conoscenza di quello che può determinare un sisma come in questo caso ma anche altre calamità è chiaro che si può contribuire anche se in minima parte a limitare i danni. È importante conoscere e quindi partecipare a questo momento divulgativo che sta portando avanti l'ordine degli ingegneri a livello provinciale ma anche a livello nazionale per questa iniziativa anche perché abbiamo l'opportunità in un certo senso di divulgare quello che stiamo facendo e abbiamo fatto anche come protezione civile. È noto che noi siamo stati anche indicati qualche giorno fa come territorio in provincia di Salerno che ha già fatto una buona pratica per quanto riguarda la protezione civile. Lo sappiamo, viviamo in una zona altamente sismica, soprattutto questo lato, questo riversante dei Monti della Maddalena ma anche sull'altro lato dove il rischio sismico lo abbiamo naturalmente anche vissuto con i vari terremoti e dall'80 in poi ma il rischio sismico, lo sappiamo, ha una sua ciclicità e quindi sono passati diversi anni dal 1980, ci dobbiamo anche aspettare che si possa ripetere. Se noi siamo pronti ad affrontare anche questa calamità come avviene in nazioni tipo il Giappone per esempio, se noi siamo pronti e facciamo anche degli interventi di adeguamento delle strutture e ci prepariamo io credo che possiamo limitare i danni enormemente. Andiamo a Sassano. A sette anni dalla scomparsa prematura di Giovanni Rubino, la famiglia ha voluto organizzare un evento celebrativo con una santa messa in suffragio di tutti i giovani prematuramente scomparsi. Si terrà sabato 26 ottobre. In suo ricordo consegneranno inoltre un importantissimo e prezioso dono alla comunità. Troppe giovani vite spezzate nel Vallo di Diano, troppi giovani morti il cui ricordo resta indelebile e la ferita insanabile. Resta però forte la fede e la speranza che quanto accaduto e tanti ragazzi prematuramente scomparsi possono ripetersi più. Una fede che sarà manifestata sabato prossimo 26 ottobre alle ore 19 presso la chiesa della Madonna di Pompei a Silla di Sassano, dove ci si riunirà su iniziativa della famiglia Rubino per celebrare la santa messa in suffragio dei giovani che hanno perso la vita troppo presto, come Giovanni Rubino, morto a seguito di un incidente stradale alla giovane età di 22 anni. Giovani che hanno lasciato le loro famiglie, i loro sogni, le loro ambizioni troppo presto. Tanti ragazzi che sono legati da un comune tragico destino e che hanno lasciato le loro famiglie e le comunità che hanno avuto la fortuna di condividere la loro presenza nel profondo dolore e nella disperazione. Sabato 26 ottobre quanti hanno vissuto il dolore dell'improvviso e prematura perdita si riuniranno presso la chiesa di Silla di Sassano per la celebrazione religiosa in suffragio dei giovani prematuramente scomparsi. La messa voluta dalla famiglia Rubino in memoria del loro figlio e fratello Giovanni per gli amici piccola peste a sette anni dalla morte avvenuta il 26 ottobre del 2012 dopo una lunga agonia presso l'ospedale di Vallo della Lucania dove era stato trasportato per le gravi ferite riportate in un incidente stradale verificatosi sulla provinciale Sassano Silla nei pressi della chiesa di San Rocco. Il suo ricordo è ancora vivo e forte nella mente di chi lo ha conosciuto e amato. Ecco quindi che la famiglia ha voluto organizzare la commemorazione coinvolgendo quanti hanno dovuto subire per un loro familiare lo stesso drammatico momento luttuoso. La famiglia Rubino inoltre per rendere ancora più forte il ricordo del giovane congiunto hanno deciso di donare un defibrillatore al servizio della comunità. Sabato 26 dopo la Santa Messa sarà consegnato l'importante apparecchiatura salvavita che sarà installata presso la villa comunale di Silla di Sassano. Ci fermiamo per la pubblicità. Bentornati in studio è andato a Monsignor Giuseppe Liberto maestro e compositore che nel 1997 venne scelto da Papa Voitila per la direzione della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Il quarto premio San Giovanni Paolo II. La cerimonia di conferimento come di consueto si è tenuta nella chiesa di San Marco Evangelista a Teggiano sabato scorso. Il premio promosso dalla diocesi di Teggiano Policastro e organizzato da Acli Camminare Insieme preseduta da Daniele Manzolillo e dalla parrocchia di San Marco Evangelista guidata da Don Angelo Pellegrino. La commissione preseduta da Francesco Antonio Grana ha deciso all'unanimità i premiati insieme con Monsignor Liberto anche altre due personalità connesse al Ministero Petrino del Papa Polacco. Si tratta di Giuseppe Blasi storico giornalista Rai e presidente dell'Uxi Campania il giornalista Salvatore Cernuzio di Vatican Insider, il quotidiano online della stampa. Le Acli Salernitane inoltre grazie alle risorse del 5x1000 anche quest'anno hanno legato il prestigioso riconoscimento a gesti concreti a favore dei bisogni educativi delle famiglie. Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto tra Acli e Istituto Comprensivo di Teggiano sono stati premiati con una borsa di studio gli alunni più meritevoli delle classi terze che hanno concluso nel 2019 il ciclo di studi con il massimo dei voti. È stata anche consegnata una menzione speciale ad un riferimento del territorio che ha saputo distinguersi per fedeltà ai valori cristiani, etici e sociali attraverso opere concrete. Quest'anno è andata a Gianfranco Santo Paolo di una speranza onlus di sala Consilina nata a sostegno delle persone affette da disabilità. Diverse le autorità istituzionali, civili e religiose del territorio presenti sabato a Teggiano. Ascoltiamo. È un premio destinato a due categorie in modo particolare ai collaboratori di Giovanni Paolo II e qui quest'anno abbiamo Monsignor Liberto che è stato per molti anni direttore della cappella musicale Sistina e dall'altro lato i vaticanisti cioè coloro che normalmente quotidianamente ci raccontano il Papa, ci raccontano la Chiesa e qui quest'anno abbiamo forse come dire una delle punte di diamante del nuovo giornalismo vaticanista, Vatican Insider attraverso il dottor Salvatore Gernuzio. Io penso che questo premio ormai si stia consolidando come un appuntamento effettivamente non solo locale ma vista come dire la rilevanza che stiamo riscontrando anno per anno diventando un premio sempre più importante. Ricordare Giovanni Paolo II è sempre un momento di serenità, di gioia, di elevatura mentale, cioè il discorso della cordialità per me là diventa un fatto fondamentale. In che senso? Giovanni Paolo II era una persona che aveva sofferto tanto, aveva fatto esperienze di vita e di chiesa tantissime per cui il ricordarlo da Papa perché quando fu Papa non cambiò stile, non cambiò idea. Lui fu veramente l'uomo di Dio, il profeta, il maestro di vita, il maestro anche di umanità e questo lo sottolineo sempre come maestro di umanità perché non si può essere veri cristiani se non si è, se non si appartiene realmente all'umanità, se non si è umani perché la disumanità distrugge in noi la cristianità e in questo lui fu grande maestro, amava la musica. Ricordo sempre che le parti che erano sue le cantava sempre, lo ricordo, soprattutto ricordo il prefazio pur essendo martoriato da tutto quello che aveva come cantava bene il prefazio e anche il per Cristo con Cristo e in Cristo. Sono momenti che tu ricordi sempre con tanta venerazione. Sabato scorso consiglio comunale speciale a Montesano sulla Marcellana dove il sindaco e l'intera amministrazione hanno voluto conferire al maestro pasticcere Giuseppe Manilia la cittadinanza onoraria. Consiglio comunale speciale a Montesano sulla Marcellana sabato scorso dove il sindaco Giuseppe Rinaldi e l'amministrazione comunale hanno deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro pasticcere Giuseppe Manilia, pluripremiato a livello nazionale ed internazionale per la grande attenzione alle perfette opere realizzate nel campo della pasticceria. La sua elevata professionalità e abilità nell'arte pasticcera è stato anche motivo di vanto per il territorio comunale anche perché lo stesso Manilia in ogni occasione non ha mai esitato un attimo nel mettere in evidenza la sua appartenenza alla comunità montesanese e ad esaltare sapori tipici e profumi di Montesano così come del Vallo di Diano e del Cilento. Il maestro pasticcere della Maison Manilia infatti nella realizzazione dei dolci in particolare in occasione delle partecipazioni a concorsi di importanza nazionale e internazionale ha sempre utilizzato prodotti della sua terra d'origine e ne ha sempre sottolineato la provenienza come del resto fa anche durante le tante apparizioni televisive su emittenti nazionali dove viene spesso chiamato per presentare specialità dolciarie tipiche. In ogni occasione Manilia utilizza sempre almeno un ingrediente del Cilento o Vallo di Diano specificando nella provenienza e le caratteristiche che lo rendono speciale e adatto alla preparazione del dolce o del dessert. Ed è proprio questo suo manifestare l'orgoglio di appartenenza e la sua dedizione nel cercare di far conoscere attraverso la sua arte e la sua grande professionalità di maestro pasticcere il territorio di Montesano e del Vallo di Diano che il sindaco Rinaldi e l'intera amministrazione comunale hanno voluto insegnare del riconoscimento Giuseppe Manilia. Sabato scorso nella suggestiva sede dello storico Palazzo Gerbasio il consiglio comunale dedicato in cui dopo l'approvazione il maestro Giuseppe Manilia è stato insignito della cittadinanza onoraria di Montesano tra l'emozione dello stesso maestro Manilia che ha voluto offrire un ricco e squisito buffet e la gratitudine della comunità di Montesano per il suo grande senso di appartenenza e orgoglio verso il territorio. Giornata di festa ieri ad Atena Lucana da mattina a sera per celebrare l'autunno una grande manifestazione dedicata alla stagione organizzata dalla Proloco Atena Nova è stato un successo. Una giornata autunnale ma non troppo calda e soleggiata come forse pochi si aspettavano ideale per far da cornice alla festa dell'autunno organizzata ieri dalla Proloco Atena Nova. Atena Lucana in festa fino a sera per celebrare i colori, i profumi e i sapori di stagione in una variegata manifestazione dedicata al periodo dell'uva, delle castagne, delle zucche e dei funghi. Tutta la comunità è stata coinvolta nel ricco programma che ha annoverato sfilata allegoriche, degustazioni, mostre, musica e tanto altro. La giornata è iniziata con il raduno dei carri allegorici nella piazza di Acente e la Cappella Maria Santissima di Costantinopoli, quindi la sfilata per il paese dal capoluogo alla frazione Scalo passando per Contrada Forche, località limite del Pozzo e Macerrina. Tante le sosse rionali, tutte una grande festa all'insegna della convivialità con aperitivi e assaggi offerti dai residenti. Arrivati nel piazzale dell'auditorium Cirillo poi il pranzo con le pietanze preparate dalla stessa Proloco. E anche qui giochi, mostre fotografiche dei lavori degli alunni delle scuole locali, poiché non è festa senza musica ad aglietare la giornata alla band del maestro Nicola Casale. Nel corso della serata poi è stato decretato il carro allegorico vincitore della festa dell'autunno 2019 e la taverna di Bacco, il più votato dalla giuria popolare. Molto soddisfatta per la riuscita della manifestazione si è detta la presidente della Proloco Atena Nova, Mariella Di Santi, che ringrazia tutti per la grande partecipazione e la fattiva collaborazione. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.